Ciao Waiu, sono appena tornato dalla pizzeria, questa sera mi hanno offerto una margherita a 99 centesimi grazie al gol di colui che era in crisi e non segnava da 4 gare, un certo Gonzalo Higuain Maronne che pizza Waiu, mi licca ancora i baffi Vincere così, con un gol di Bonucci in lacrime per la dedica al figlio e con il gol decisivo del più odiato dopo che l'avevano pareggiata è la giusta ricompensa per tutto quello che ci hanno detto in questi mesi e mentre loro sperano che si rompa, lui ha frantumato tutte le loro speranze segnando e senza esultare in silenzio, proprio come loro, senza fiato Complimenti al mister che l'ha vinta nonostante Hernanes in campo e complimenti al Napoli per la scelta intelligente di essersi scansato e averci fatto vincere visto quello che è successo a Inter e Milan dopo averci battuto Sarri probabilmente avrebbe preferito giocare con l'ora solare come tutti gli altri ma questa sera l'unica cosa solare e allo stesso tempo legale è questa vittoria che ci fa urlare come da sei anni a questa parte Salutate la capolista! Alla prossima!